Eccoci qua, eccoci qua, quando compare il 2 sulla data vuol dire che ci siamo proprio Oggi, 20 dicembre, qui nell'Arte di Romi Un abbraccio e un saluto ancora da parte di Michele e di Roberto 20 dicembre, 20 dicembre vuol dire che siamo proprio lì, 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 pronti, pronti, pronti Il nostro super fantastico albero è pieno di video tutorial, non mi viene da dire Pieno di video tutorial, pieno di decorazioni natalizie E anche oggi io e Roberto l'ho preparata una speciale top per voi E allora, vai col video! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!